Nella mattina odierna, presso il Museo della Civiltà di Roma, il comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Venezia, Maggiore Emanuele Meleleo, ha consegnato al direttore del museo, Andrea Vigliani, due importantissimi reperti archeologici meso-americani. Sia per il pendente in oro a doppia figura della cultura del Gran Cocle di Panama, che per la statuina fittile appartenente alla cultura Nayarit, Messico-Nordo-Occidentale, il segretariato regionale del Veneto ha dichiarato l'interesse particolarmente importante, previsto dal Codice dei beni culturali del paesaggio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia, sono state avviate dal nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Venezia nell'ottobre 2020, a seguito dell'ispezione della locale soprintendenza presso il luoghi in cui erano custoditi i beni.